lara sono passati poco più di sei mesi da quelle terribile 17 febbraio che ti ha vista coinvolta in un grave infortunio come sta procedendo la riabilitazione sta procedendo molto bene io mi sento bene con luigino abbiamo fatto un buon lavoro comunque tutti gli obiettivi che c'eravamo preposti siamo riusciti a raggiungerli quasi tutti e quindi sono contenta manca ancora qualcosa però dai per l'inizio della stagione c'è ancora un po di tempo quindi possiamo dire che stai rivedendo la luce in fondo al tunnel si all'inizio è stata dura però il peggio è passato adesso sono già passati sei mesi e qualche giorno quindi diciamo che sono sulla via giusta per tornare a sciare e sono contentissima che tipo di lavoro è svolto col professor sepulcri abbiamo fatto più tipi di lavoro nel primo periodo abbiamo lavorato più sul su lavori comunque più statici perché non potevo muovermi tanto quindi più dall'istesa da in piedi isometrie eccetera e poi piano piano abbiamo poi cominciato a fare lavori più dinamici come balzi adesso stiamo lavorando tanto sulla forza in questi giorni la più all well west udine ha avuto proprio un periodo di preparazione qui a tarvisio tu conoscevi già questa realtà ti piace la palacanestro sì mi piace tanto mi piacciono tanto comunque tutti gli sporti squadra è veramente un onore comunque ospitare una squadra così importante qua tarvisio noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo lara non vediamo l'ora di rivederti sulle piste da sci grazie mille ciao